Tragedi a lungo il sentiero che dal rifugio Campogrosso porta a Malgapoff e Talla e poi al pian delle fugazze, un escursionista di 71 anni di Abano Terme è stato colto da un malore che si è rivelato fatale. Attorno alle 12.45 di oggi, 17 novembre, il suo eme di Vicenza ha allertato il soccorso alpino a Recuaro Valdagno. Subito il personale del rifugio è partito con un defibrillatore per dare supporto agli amici dell'uomo che gli stavano già praticando le manovre di rianimazione seguendo le indicazioni della centrale del 118. A loro raggiunti dopo una ventina di minuti di camminata anche da una squadra di soccorritori è subentrata l'equipe sanitaria dall'elicottero di Venone Emergenza che ha tentato il possibile fino alla constatazione del decesso. La salma è stata trasportata fuori dal bosco in un punto agevole per il recupero e affidata all'eliambulanza. Grazie. Grazie. Grazie.